Zero Mission Rome 2011, sono in compagna di Francesco Maggi, titolare della società Saem, una società che si occupa di manutenzione degli impianti fotovoltaici. Anche di manutenzione di impianti fotovoltaici, tra cui riconosco che la parte più ostica del sistema, perché il finanziamento, la costruzione, l'assemblaggio dei vari componenti dell'impianto, diciamo ormai c'è un buon know-how da parte di tutti gli operatori. Quello che invece è la cosa più nascosta, più infiva, che si verifica nel dettaglio solo dopo il collaudo o durante il collaudo è proprio la parte della manutenzione, perché è la parte dove si va nello specifico dell'impianto e si va a verificare qual è la parte che va migliorata o manutenuta nel tempo. Oggi credo che con una serie di esperienze già vissute sul campo possiamo dire di aver imparato e imparato tanto, a caro prezzo, a caro prezzo. La Saem oggi si occupa, come dall'inizio, di tutto il ciclo della manutenzione, ossia dal taglio dell'erba, del lavaggio dei moduli, ma non solo sull'impianto a terra, di cui questa macchina che noi portiamo ci invidia tutto il mondo perché ne abbiamo fatto un cavallo di battaglia e non intendiamo venderla per oggi, quindi cerchiamo di tenerla come know-how italiano e farlo praticamente come servizio. Abbiamo anche un sistema e un know-how sul lavaggio di altre parti dell'impianto, impianti su tetto, impianti su vela, parcheggio eccetera. Abbiamo ormai creato quasi una divisione interna totalmente organizzata ed efficiente per conto proprio per fare questo tipo di lavoro. Quanto è importante la manutenzione, in questo specifico caso il lavaggio dei moduli fotovoltaici, nelle performance di un impianto fotovoltaico? Allora, è chiaro che questa parte di operatività sull'impianto è importante in quanto migliora di parecchio, ci sono una scala di punti percentuali che migliorano l'impianto. C'è chi dice il 5, c'è chi dice il 10, ma comunque c'è un buon effetto se l'impianto, il modulo, è ben pulito, quindi ben manutenuto. Per fare questo non lo si può fare con la semplice acqua del rubinetto, ma va fatto con un'acqua purificata e con un trattamento di asportazione reale, non di semplice immissione d'acqua sui moduli, quindi va fatto proprio un trattamento di pulizia del modulo. Questa è una parte che sull'impianto i vari investitori di cui noi oggi ho piccoli clienti, la signora Maria sul suo piccolo impianto della casa apprezza e vede anche effettivamente le performance dell'impianto. Volevo aggiungere che sul discorso della manutenzione noi garantiamo anche le perdite dell'impianto. Cosa vuol dire? Cioè vuol dire che fatto il collaudo all'impianto, verificato da parte nostra che l'impianto, anche se non è stato costruito da noi, ha una certa regolarità, noi manteniamo entro certe percentuali quella funzionalità dell'impianto. Se dovesse abbarsarsi di produzione, noi rimborsiamo quella mancata produzione al cliente per far sì che lui il suo investimento sia comunque costante nel tempo. E' un'operazione matematica semplice, apparentemente complessa. In poche parole, tu mi dai l'impianto. Io ti faccio un'azione di prevenzione di quello che è la produttività del tuo impianto. Se l'impianto non produce quello che avevamo contratualizzato, io ti rimborso quella parte che, per causa mia o per cattiva gestione e manutenzione dell'impianto, è a un tuo danno. Per cui sicuramente una garanzia da parte del cliente di ottenere un servizio che sia totalmente performante. E' chiaro, l'impianto se funziona nel tempo garantisce un rendimento. Se l'impianto non funziona nel tempo, e ne vediamo tanti gli impianti maltenuti, ma non solo nella parte dell'alavaggio, della pulizia, per quanto riguarda gli impianti a terra, ma anche nella parte elettrica. A volte basta un falso contatto che una stringa non funziona, quindi l'impianto produce meno. Basta anche una mancata manutenzione sull'inverta, la ventola che si blocca. Cose apparentemente molto banali, ma che in realtà pregiudicano il funzionamento di tutto l'impianto. E quindi anche la produttività. Per trovarvi, un vostro eventuale cliente, dove si deve rivolgere? O sul nostro sito internet www.saim-fotovoltaico.it oppure direttamente al nostro numero di telefono aziendale che si trova sullo stesso sito. Noi siamo locati in Puglia. Abbiamo realizzato e manuteniamo oggi tutti gli impianti che abbiamo fatto, che sono, l'altro ieri facevamo una classifica, sono 150.000 kilowatt, 150 mega, virgola 926 kilowatt, quindi parliamo di un grosso numero di impianti che abbiamo costruito e in manutenzione. Più altri 40 megawatt, tra piccoli e grossi impianti, di una serie di clienti terzi che si sono fatti realizzare impianti dagli altri. Poi nel loro percorso hanno avuto bisogno di qualcuno che entrasse in merito veramente non solo sulla gestione dell'impianto, ma anche sulla correzione di quello che non è stato realizzato bene prima. E forse c'è un business diverso. Oggi dove stiamo guadagnando il più apparentemente è andare a sistemare gli errori che possono capitare solo a chi lavora, quindi non è da condannare, gli errori che sono stati fatti da impianti realizzati in maniera molto approssimativa. Per cui in questo caso è l'installatore vero e proprio che ha realizzato l'impianto che si rivolge a voi per manutenerlo e per aggiustare il tiro su quello che è l'impianto già realizzato. Diciamo anche, non è facile gestire i colleghi, perché chiaramente c'è quel rapporto di fiducia-sfiducia che è in sito nel business. Però con chi poi ci siamo tarati bene, c'è un'ottima collaborazione e non solo andiamo direttamente al cliente per conto nostro perché ci chiamano, ma anche tramite i nostri colleghi con cui hanno una serie di problemi e interveniamo chiaramente dividendoci quello che può essere il business. Ecco, voi come siete attrezzati? Vedo questo camion con questa grande spazzola. È l'unico strumento che utilizzate o ce ne sono altri? Allora abbiamo una serie di altre macchine perché questo è un tipo di impianto fotovoltaico che permette il passaggio dal mezzo. Poi abbiamo anche delle attrezzature più piccole per impianti con passaggio tra i moduli più stretti e poi tutta una serie di attrezzature che trattano l'acqua con spazzole rotanti perché ce ne sono tante. Abbiamo poi individuato dopo aver buttato una serie di risorse su attrezzature inutili che abbiamo accantonato poi abbiamo individuato le migliori e abbiamo tutto il segmento dell'attrezzistica specifico per questo tipo di operazione facendoci fare anche su misure come questa è stato a frutto tuttora ancora di una serie di modifiche che stiamo facendo. Per il taglio erba abbiamo trattori taglia erba operatori a mano tutta una serie non usiamo né discerbanti né acqua oppure prodotti che possono inquinare le falte lo stesso vale sul tetto piuttosto che operiamo manualmente. Per quanto riguarda il lavaggio dei pannelli qual è la tempistica per una buona performance dell'impianto fotovoltaico? La tempistica è innanzitutto una prevenzione di quello che succede sull'impianto se c'è pioggia acida se c'è pioggia che porta una serie di di sabbie rosse che poi coprono il modulo deve essere noi abbiamo un'organizzazione che fa il giro oltre proprio periodiche tanto si trovano nel giro della massa dell'impianto che abbiamo che gli impianti che abbiamo in ogni provincia del sud Italia abbiamo un nostro piccolo staff che interviene come prevenzione ci facilita anche l'intervento al punto giù specialmente quando devi garantire non puoi permetterti di tenere l'impianto coperto di terra con acqua sporca e poi intervenire dopo c'è una performance che cate dove ho notato una grossa difficoltà sull'impianto a tetto dove ci sono quelle fabbriche nei dintorni che fanno lavorazione di carni lavorazione di carni e grasso di qualsiasi genere perché attacca sul modo si crea uno strato abbiamo avuto una grossa esperienza in città prima con cattiva esperienza dove abbiamo risolto il problema dove non si riuscivano a lavare i moduli non potevamo e non volevamo proprio perché visto che avevamo trovato il problema utilizzare acidi non volevamo utilizzare sgrassatori perché altrimenti non solo avrebbe aumentato il costo ma poi nelle falde di acqua piovana la parte ambientale ne avrebbe risentito abbiamo trovato il sistema e quella è la parte ancora più cioè quella è la parte dove veramente credo di aver trovato un'ottima soluzione chiaramente che fa parte del know-how aziendale e che non viene rivelata ovviamente quello no quindi diciamo ci sentiamo orgogliosi anche di trovare perché poi li troviamo questi problemi e li risolviamo